c'ha il bisogno che chiama ma a me piacerebbe sentire i rumori del maestro ma paolo devi sapere che il maestro sta facendo anche in questo stesso momento un tour de force che per un uomo non è facile lui è 50 giorni che in live non ha tempo di neanche toccacciarsi ci ha raccontato che questa mattina infatti ha trovato come dire il pantalone inumidito da un sogno semi erotico ha sborato ha sborato nei pantaloni stanotte ma che cazzo andrea ma che cosa è diventata la tua live ogni cosa ti indigni ma se veramente diventato quello che lo devi di più i miei si hanno dato la testa scusami un attimo detto sborato non ho detto cosa ho detto andrea mi ricordo quando stavo insieme a genova ma ce l'ha la cocaina mi continuava a chiedere io dicevo andrea stasera no non mi va che c'è è un brutto è uno schiaffo forte è uno schiaffo forte comunque no non si può dire sborato perché si deve dire con un termine in più family fa ora abbiamo 5 mila persone che avranno 14 anni dai e sono più felice che crescono con te che con un altro youtuber perché secondo me tu insegni tanto ai ragazzi comunque grazie paolo e ma scusa e qual è l'altro termine che tu utilizzi eiaculare ma che ha fatto un sogno con felice io dico dice ha lasciato la crema è bello bello scusami per il regalo di anche anche grazie a te e dovresti ringraziarlo anche che ti ha donato 50 euro per il regalo quanto quanto era il totale o 550 euro signor regalo è ma perché noi vogliamo fare vogliamo prendere delle bottiglie di vino che mi manda andrea ok delle bottiglie di vino invecchiate 20 25 anni magari un paio si riesce e fare una serata alcolica il telefono azzurro la rodi altro livello chiamata da parte del suo monitor bottiglie di pregio naturalmente fai una dub 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 se ti piace